Alberto Mineo, nuovo catcher del Parma Clima, ciao Alberto, questa tua esperienza al Parma dici le tue prime sensazioni? Le prime sensazioni sono delle sensazioni di essere arrivato in una squadra sicuramente con un clima professionale e con tanta voglia di vincere sicuramente. Hai avuto tante esperienze anche all'estero, oltre in Italia, sei stato anche nelle organizzazioni di Toronto e Chicago, ci vuole raccontare qualcosa di queste tue esperienze americane? Penso sia stato il miglior modo per essere introdotto nel baseball professionistico, nel senso che ho avuto la fortuna di firmare con una squadra in organizzazione come i Chicago Cubs che sono una delle prime organizzazioni e quindi ho avuto questa fortuna e senz'altro aiutato la mia carriera. Hai giocato in realtà qui al Cavalli, hai giocato le qualificazioni alle Olimpiadi, poi l'Olimpico quindi per te è un ritorno in questo stadio, quali saranno secondo te le tue sensazioni quando soprattutto potremo vedere i tifosi allo stadio? Sarà sicuramente una cosa molto emozionante, sia l'inizio di un campionato che era dato in forse fino all'ultimo e sia il fatto che ci potranno essere i tifosi che qui a Farmas so essere molto spiegatati. Come vedi abbiamo tante idee come queste piccole interviste, allora per voi giocatori come è avere noi ragazzi in mezzo alle scatole? Ti sarò sincero, non è la cosa più piacevole, però alla fine poi lo divento, perché comunque è un piacere condividere anche le proprie sensazioni e farle sapere anche a chi ci supporta come i tifosi. Ultima cosa, un saluto ai tifosi. Ciao a tutti, un abbraccio e una speranza di vedervi al più presto qui al campo.